Da ribelli metropolitani ad artisti chiamati ad abbellire i muri più brutti della città. È la trasformazione che si accingono a compiere i cosiddetti writers di Bari, inseriti in un progetto nato dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'associazione V-Roots. L'obiettivo è di conciliare le manifestazioni espressive dei writers con la riqualificazione di spazi grigi o deturpati e di conseguenza di ridurre i fenomeni di vandalismo. Un risultato che non sarà facilissimo da raggiungere vista la tradizionale origine dell'arte dei murales, ma che il sindaco Michele Emiliano ritiene sia possibile. Il progetto, chiamato CAP 70100 City Art Project, prevede l'assegnazione dei muri di cui si sta realizzando un censimento ai graffittari che ne saranno responsabili. Il primo è stato il muro che costeggia il ponte di Corsocavura di fronte al liceo scientifico Scacchi. Tutti potranno segnalare spazi da sottoporre ai trattamenti tramite bombolette. È previsto anche un vero al proprio albo dei graffitari per permettere loro di avere in assegnazione i muri. Per questi artisti di strada, come li ha definiti il sindaco, il lavoro non mancherà. Gli angoli da riqualificare ma soprattutto da ripulire a Bari sono tanti, a cominciare da questo, proprio a pochi metri dal luogo scelto per presentare il progetto.